Si conclude così il nostro cammino qui a Tancareggia. Abbiamo visitato un po' gli ambienti, le stalle, la chiesa, un tempo anche parrocchiale di San Giacomo e di San Filippo. Ecco qua gli ambienti dove appunto viene sistemato il foraggio, più di 500 ettari, 150 cavalli, allo stato quasi frado perché sono in libertà. Bokei è un'azienda autosufficiente, in un tempo veramente questo posto che vediamo qui era abitato, c'erano tante professionalità. È gestito adesso dalla regione di Sardegna e adesso ci portiamo fino al Nuraghe Losa. Da fine andando.